da sei minuti di lunedì per appunto 4 ore e mezz'ora chiudo gli occhi e cerco di riposarvi allora qualcuno potrebbe dire se io adesso dovessi vedere qua il dottor Berlusconi il dottor Zalema, il dottor Rosivitti, Pannella non ci sono dichiarazioni ufficiali se non alcune indiscrezioni secondo le quali ci sarebbe il via libera tornando alla normalità infuriano le polemiche Niki Giustino che è il più giovane disturbatore televisivo italiano che sta seguendo Paolini ovviamente da oltre un anno sicuramente un po' di polvere c'è qualche cagnolino che ha fatto la pipì ma questo gesto qua se io faccio così mi sporco vado a casa e mi lavo le mani a freddo di andare a casa va, 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 va va, va andate piano perché la macchina è in norma di un miliore di città ... ... ... ... ... ... ... ... ... Io credo di essere sicuramente nato con questo disturbo, il suo bipolare dell'umore, ciò significa che ho momenti di grande eccitazione, esaltazione, e momenti in cui sono fortemente intristito. ... ... ... ... ... ... ... ... ...